Iniziamo questo nuovo anno liturgico con la prima domenica di avvento, dove avvento non significa affatto attesa, come spesso ci è stato detto, ma significa proprio venuta, perché il problema non è se il Signore viene. Il messaggio è proprio questo, il Signore viene sempre, comunque e dovunque. Non esiste tempo, non esiste modo, non esiste il luogo in cui Lui non venga. Il punto è proprio questo, vedere questa sua venuta, accorgersi di questa sua venuta, esserne consapevoli. Ecco allora la parola ci dona un messaggio centrale, perché ciascuno di noi possa vedere la venuta del Signore nella propria vita, vegliare. Attenzione, non si veglia per dovere, non si veglia per paura e neppure per abitudine, ma si veglia perché si attenta a una bellezza, come non ricordare quei tempi quando ero bambino che non riusciva a prendere sonno la notte perché domani era un giorno straordinario, era una festa, era un avvenimento particolare, era un incontro e allora non vedevo l'ora che si faceva il giorno del domani. Ecco questo è il vegliare, l'attesa di una bellezza, perché vedete anche nel tempo della malattia, anche nel tempo della disgrazia, anche nel tempo della crisi c'è sempre una bellezza. Ho visto persone provate, ma in quella prova hanno sperimentato un'avvenuta straordinaria del Signore. Il Signore viene sempre, il Signore viene a trovarti, anzi proprio nel momento in cui tu pensi che Lui non ci sia, Lui ti fa una visita speciale. Buona misura.